Largano il rotto, domani lo mando a Greenstone per ripararlo. Potete andare anche voi, sceriffo, con il carro. Così preleverete le paghe per gli operai. D'accordo, signor Cooper. Telegraferò perché vi facciano trovare il denaro pronto. Signor Cooper! Buongiorno. John Ferguson. Il nostro sceriffo, signor Novak. Piacere. Sapete niente sul furto che ho subito ieri? Semplicemente che è stato compiuto da un uomo terribilmente in gamba che non è stato certo ad aspettare che gli mettessimo il sale sulla coda. È inutile illudersi, non lo ritroveremo. Beh, adesso dobbiamo scendere in viniera. È ora che cominciate a lavorare, signor Novak. E grazie per il viaggio di domani, sceriffo. Vai in calma! Arrivano le paghe! Non le paghe, le paghe! Ma che cosa è accaduto, Novak? I banditi, signor Cooper. Purtroppo il conducente è rimasto ucciso e lo sceriffo è ferito gravemente, credo. Se siamo riusciti a salvarci, il merito è tutto di Cadillip. E di quei due uomini. Ehi voi! Dove andate? Volete squagliarvela così? Venite qui! Voglio che tutti sappiate quello che hanno fatto per noi. È grazie a loro che abbiamo potuto salvare le nostre vite e le vostre paghe. Oh, stavolta l'abbiamo salvata. Ma, ma è vuota! Vuota? Ma come? Non è possibile, anche stavolta. Ah, dimenticavo, signor Cooper. E sapete, con i banditi che ci sono qui intorno, ho preferito prendere una piccola precauzione. Bravo, Cadillip. Sei in gamba. Grazie, Cadillip. Grazie. Bravo. Come vedete, non manca nulla, signor Cooper. 12.000 dollari esalti. 12.000 dollari esalti.